tempo fa scrissi rsvp ma gli devi anche un'altra valenza rispondete se volete pace di cosa si tratta di un altro raduno incontro manifestazione sollevazione come mi piace definirlo moto di rievoluzione ennesima e così avanti all'infinito finché ogni barbarie non cessi quindi infinisca i dati del come del quando li vedete sul sito quindi adesso si tratta solo di rispondere se volete smettere di essere ostaggio di chi compra vende scambia armi per l'eterno fuoco non quello che deve cessare si tratta di portare nelle piazze di questi giorni tutti quei meravigliosi ragazzi che erano in centro per i femminicidi per ricordare insieme che ogni guerra è l'habitat perfetto per stupri violazioni delle donne bambini compresi si tratta di non delegare più solo alla politica commerciale economica finanziaria il destino nostro della terra del cielo e del mare e di tutti i suoi annegati per nostra mano oggettati a soffrire lo stesso trattamento che hanno ricevuto nei paesi di guerra rispondete se volete pace è un appello a favore di chi obietta non accetta e non subisce anche perché nessuno ha chiesto se volevamo essere trascinati entrare in questa guerra totale come quella del mar rosso con i nostri aerei e quindi vuole disertare ogni forma di ecidi e di sterminio con tutte le bandiere sì ma in una sola quell'arcobaleno crediamo che solo una cosa si possa fare in questi giorni non si diserti dalle sporci finché siamo vivi e in una città apparentemente in pace per tutti quelli che non lo sono più e perché altri non devono restare uccisi rispondete se volete pace è nel nostro dna del portico della pace dna dignità non armi ci vediamo ciao